Si è tenuta a mercoledì 17 aprile al numero 10 di Via Aldere l'attesa inaugurazione di Viani Lab, il nuovo spazio di co-working firmato Viani Assicurazioni, riferimento assicurativo a Verona dal 1957. Un innovativo servizio voluto dall'imprenditore Massimo Viani rivolto ad aziende professionisti che i vi trovano uno spazio vocato alla formazione, al confronto e alla contaminazione tra idee, progetti e conoscenze. Abbiamo bisogno di allargarci, però perché farlo solo per noi? Abbiamo 40 persone per dare un miglior servizio, ma soprattutto per trovare delle idee nuove. Bisogna contaminarsi e soprattutto far crescere delle professionalità. In collaborazione con l'Università di Verona, Viani Lab ospiterà stegisti e laureandi nel settore finanza, legge e comunicazione per un proficuo confronto tra l'esperienza di affermati professionisti e l'energia nuova di giovani talenti. Abbiamo chiesto all'Università di fare un collegamento con loro, di scegliere degli stegisti che verranno retribuiti e anche verranno da noi a portare avanti i loro progetti di studio, ma anche applicare al marketing, alla comunicazione, agli studi finanziari e anche, perché no, ai studi giuridici per le aziende qualcosa di nuovo. Potranno esprimersi, ci faranno vedere le loro idee anche, questo sarà molto bello. E parla già di progetti futuri Massimo Viani, che palesa il desiderio di dar spazio alla cultura in nome della sua e della nostra città. Per il 2020 c'è ancora molto da fare. Intanto faremo anche molte iniziative culturali, ospettiamo una mostra del maestro Arvedi, ne faremo delle altre manifestazioni culturali. Senz'altro troveremo il modo per ricambiare a questa bellissima città qualcosa di nostro, qualcosa di gratuito, qualcosa di bello e questo sarà il nostro compito per il futuro.